Allora Gian Piero, questa sera a Scalea abbiamo attraversato almeno 40 anni di vita politica, culturale, di spettacolo, di costume e poi anche di bellezza, ricordando Brigid Bardot e di calcio con la nostra Juve. L'Italia dove sta andando? In questi settori, comunitivamente, soprattutto in quello politico, quello che poi ti appassiona e la tua passione forse più divorante? No, non so se sia la passione più divorante, certo è la cosa che sta più a cuore a tutti. Dove sta andando? Io penso che stia in un guaio, un guaio grande, che non accenna a scemare, che dipende da condizioni innanzitutto internazionali, che dipende dal fatto che la macchina economica batte colpi negativi, eccetera. Allora speriamo bene, speriamo di vederci alla prossima estate e di raccontarci la meno pessimistica. Io sono molto pessimista. Hai parlato di Seconda Repubblica, è già finita, andiamo verso una terza repubblica a questo punto? Ma andiamo, andremmo, perché le cose anche lì non sono molto chiare. La Seconda Repubblica ha il fiato pesantissimo, anzi più che questo, zoppica, più che questo, però come faccio a dirti, andiamo, sì, è probabile che andiamo verso un mutamento sostanziale del meccanismo generale, dell'architettura generale, esattamente come, quando e chi, io non so dire, non faccio il mago di professione. Grazie Gian Piero